Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessilan News. Oggi parleremo di accessori per borse, o meglio, di un accessorio immancabile, ovvero i manici. Ebbene sì, dopo il set o bag sarà possibile acquistare anche i manici o bag. Andiamoli a vedere insieme nel dettaglio. Eccoli qui i nostri manici o bag, quindi una coppia di manici tubolari con un'anima quindi in plastica che vi permetterà di modellarli facilmente. La chiusura, come vediamo, è una chiusura a vite, quindi un'applicazione molto semplice. Basterà avvitare e svitare questa piccola vite e inoltre presenta un comodo talloncino che vi permetterà di migliorare la presa al vostro lavoro. Se dovesse, diciamo, fuoriuscire una parte della vite potrete anche pensare di eliminare questa parte in eccesso con un semplice coltello. Le misure di questi manici sono di 54 cm di lunghezza, mentre nella parte più ampia, diciamo quella utile all'applicazione, l'ampiezza massima è di 4,5 cm. Il diametro del foro è di mezzo centimetro, mentre in invece il diametro della vite è di circa 2 cm. Passiamo a vedere tutte le colorazioni disponibili. Quella che abbiamo appena visto è la colorazione cuoio. Restando sui colori naturali vediamo il beige. Questa che vediamo è la colorazione grigio. Per le colorazioni più tenui abbiamo il cipria, avorio. Come vediamo in tutte le colorazioni le cuciture sono tono su tono. Il colore più chiaro di tutta la linea è il bianco, nevi e un colore più pastello, ovvero il tiffany. Abbiamo poi il marrone, quindi un colore facilmente abbinabile anche con i colori più neutri. Vediamo un colore più deciso, il rosso. E per concludere il colore più scuro e immancabile, che si abbina con tutti, il nero. Un'applicazione davvero molto semplice, che semplificherà l'utilizzo anche alle persone che sono alle prime armi con la creazione delle borse. Inoltre le colorazioni che abbiamo visto riprendono quelle dei fondi, delle tracolle, ma anche delle zip lampo e delle chiusure magnetiche in ecopelle. Quindi insomma potrete davvero abbinarli facilmente e creare le combinazioni più svariate. Quindi un manico davvero facile da utilizzare, l'anima in plastica, permette di modellarlo molto facilmente e si adatta sicuramente a diversi modelli di borsa. Vi ricordo che si tratta di uno prodotto 100% made in Italy e in ecopelle. Inoltre il manico è rivestito in ecopelle sia internamente che esternamente. Arrivati a questo punto allora non mi rimane che ricordarvi di iscrivervi al canale, di attivare la campanella così da non perdere nessuna novità a Tessiland e di seguirci anche su tutti i nostri canali social, quindi la pagina Facebook Meglio di Maglia e poi su Instagram, TikTok, Pinterest e sul nostro blog. Al prossimo a Tessiland News!